Benvenuti nel mondo di Christophe Claret. Christophe Claret è uno dei migliori produttori di orologi al mondo, e non c'è da stupirsi se si considera l'attenzione che il marchio svizzero dedica alla qualità dei materiali, alla precisione e alla tecnologia avanzata. Fondata nel 1989 dallo stesso omonimo designer, l'azienda ha guadagnato numerosi soldi per premi e riconoscimenti nel corso degli anni per la sua eccellenza nella produzione di orologi di alta gamma. I modelli prodotti da Christophe Claret sono caratterizzati da un design unico e da materiali pregiati come l'oro, il platino e il titanio. Ogni orologio è realizzato a mano da artigiani esperti, con particolare attenzione per la precisione e la qualità. I modelli più noti del marchio sono il modello Xtreme 1 e il modello Poker. Il modello Xtreme 1 è un orologio dal design futuristico caratterizzato da una complicata tecnologia magnetica per il movimento delle lancette. Il Poker, invece, è un orologio con un mini tavolo da poker incorporato. Ma non è solo la tecnologia a distinguere i prodotti di Christophe Claret. L'attenzione al design è altrettanto importante, come dimostrato dai modelli personalizzati su richiesta del cliente. Il marchio si dedica infatti alla produzione di orologi personalizzati, utilizzando materiali e design specifici richiesti dal cliente stesso. Questa flessibilità dimostra la capacità di Christophe Claret di soddisfare le richieste e le esigenze di una clientela esigente e sofisticata. La qualità dei prodotti Christophe Claret si riflette anche nel loro prezzo, che non è accessibile a tutti. Tuttavia, l'investimento in un orologio di questo marchio è un acquisto che dura nel tempo, grazie alla durata e alla precisione dei meccanismi. In sintesi, Christophe Claret è un marchio di orologi di lusso che si distingue per la sua attenzione al design e alla tecnologia, nonché per la sua capacità di produrre orologi personalizzati su richiesta del cliente. La sua reputazione di eccellenza nel settore degli orologi di alta gamma lo rende un'opzione ideale per gli appassionati di orologi e collezionisti di tutto il mondo.